Il Duce, giunto a Gaeta per portare il suo saluto ai rurali in viaggio per la quarta sfonda d'Italia, salita a bordo della nave da guerra a Trieste, dopo aver passato in rivista gli equipaggi schierati su coperta, salpa verso Ponza e Ventotene per incontrare le 15 navi del convoglio dei 20.000. 15 chilometri di mare sono occupati dalle navi naviganti in linea, intervallate l'una dall'altra in una distanza di 1000 metri. Il Trieste, che naviga ad una velocità tre volte maggiore di quella del convoglio, raggiunge rapidamente il Vulcania, nave capofila su cui è imbarcato il maresciallo Balbo e rimonta la formazione a breve distanza. A nome dei 20.000, il governatore della Libia raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo onore che esprona tutti a meglio servirlo con le loro opere. Il Trieste, che è un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo. Il Trieste, che è un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiungerà al Duce un messaggio di ringraziamento per l'altissimo, raggiung